salve benvenuti o bentornati io sono salvo e oggi piccolo video dove vi faccio vedere come si installa perché ho visto che negli altri video non si vede perché ho perso alcuni file di registrazione come si installa sul nostro router il nostro shell io abbiamo tutti gli altri shelli semplicissimi ragazzi allora mettiamo in pairing subito subito il nostro shelli deve andare in lampeggio ok sta lampeggiando lui già in pairing andiamo ad aprire la nostra app shelli quella nuova andiamo a fare più aggiungiamo la scansione del wifi lui già ci trova che c'è shelli uno ci mettiamo il nome lo chiamiamo interruttore prova possiamo scegliere un'immagine o scattare un'immagine io ho già ho selezionato questa diciamo quale stanza la vogliamo mettere salviamo e l'associazione è quasi finita a posto abbiamo già incluso il nostro dispositivo dovevamo aspettare solamente che si riconnette qualche secondino ragazzi e l'installazione è pronta possiamo già accendere e spegnere video flash ragazzi molto veloce per farvi vedere come si fa a fare l'installazione scusatemi per l'altri video che non ho perso le registrazioni ragazzi che dirvi io vi ringrazio di essere stati qua a vedere questo video lasciate un like qua sotto a voi non vi cambia niente a me fa crescere il canale iscrivetevi anche qua sotto qua sotto ci sono degli abbonamenti se li volete fare li fate pure oppure se non li volete fare lasciate perdere se mi volete lasciare una donazione super grazie c'è il tasto ragazzi sono anche su instagram e su facebook c'ho due canali telegram se volete scrivere e ora un prossimo video ciao grazie grazie grazie